innanzitutto buongiorno e come prima cosa voglio fare i complimenti all'organizzazione percorso nuovo percorso rivisionato rivisto tutto è più compatto più divertente non solo da parte degli atleti ma anche degli spettatori perché si può vedere in diversi punti molti passaggi tecnici al punto giusto senza essere troppo pericoloso e belle belle conferme dai nostri atleti soprattutto italiani abbiamo visto siamo partiti questa mattina alle 10 e mezza con la categoria junior maschile poi hanno seguito alle 12 e mezza tutte le batterie delle ragazze dalle open fino arrivare alle junior e adesso appena conclusa la gara degli elite degli open e con una vittoria dei sdi saru e conferme come ho detto prima da parte dei nostri italiani sono contento di vedere lì davanti che sbaumer perché ha bisogno di risultati e di trovare diciamo un po di morale per l'ingresso della vera stagione che arriverà poi ad aprire con l'inizio delle gare di coppa del mondo e dove lì che i calibri i grossi calibri dovranno farsi vedere ecco comunque sono soddisfatto a parte un po il freddo ma fa parte del gioco molti partecipanti abbiamo visto che anche nelle categorie junior anche open più di 100 140 partenti per ogni batteria quindi soddisfazione da parte degli organizzatori visto tutto il lavoro che c'è stato sono stati ripagati da una bella presenza delle dei team non solo italiani